Continuano i controlli dei carabinieri sul nostro territorio. A Danagni, il personale del locale comando stazione dei carabinieri, al termine di un'approfondita e specifica attività info-investigativa, ha deferito e stato di libertà un 52enne del luogo, poiché è resosi responsabile del reato di furto aggravato. L'uomo ha manomesso il contatore Enel di propria pertinenza, prelevando, indebitamente, energia elettrica per un valore di circa 9.000 euro. Invece a Pio, il personale del locale comando della stazione dei carabinieri, unitamente al personale del nucleo antisofisticazione e sanità di Latina, a seguito di un controllo presso un'attività commerciale, ha segnalato un cinquantenne del luogo, per violazioni di mancato rispetto dei requisiti minimi di igiene, previsti dalla normativa vigente. A seguito delle irregolarità, inoltre, veniva richiesto l'intervento della ASL di Frosinone, che ha emesso un provvedimento di chiusura dell'esercizio pubblico e ha impartito il termine prescrittivo di adeguamento per le mancanze igienico-sanitarie. Ad Acuto e Paliano, il personale del comando dei carabinieri, nell'ambito di predisposti servizi per il controllo del territorio, finalizzati a contrastare i reati di genere, ha individuato due discariche abusive di rifiuti soliti urbani, non pericolosi. Nella circostanza, però, i militari hanno identificato i responsabili, in un 72enne residente a Fiuggi, un 40enne residente a Perugia e un 34enne di Ceprano, ai quali sono stati contestate le previste sanzioni con Euro 600. Invece, a Picinisco, un 30enne di nazionalità nigeriana è gravato da vicende penali per reati commessi contro la persona, poiché resosi responsabile di interruzione di un pubblico servizio e violenza privata. I militari operanti sono intervenuti in una via del predetto centro, su richiesta dell'autista di un autobus Kotral, poiché era in atto un'animata discussione proprio tra l'autista e il cittadino nigeriano. Giunti in loco, venivano informati dal conducente del bus che lo straniero, con fare altezzoso e minaccioso, pretendeva di essere accompagnato a Frosinone e, nell'occorso, era stato costretto a fermare la corsa, facendola ritardare di circa 30 minuti. I militari operanti hanno così inoltrato la proposta del rimpatrio, con foglio di via obbligatorio e di vieto di far ritorno nel comune di Picinisco per tre anni.